Buonasera e buon anno Carissime amiche e amici dell'atletica e del podismo Alla 43esima edizione della Boclassic di Bolzano Corsa su strada internazionale che si è corsa l'ultimo giorno dell'anno Vinta dall'etiope Mukhtar Edris e dalla keniana Agnes Tirob C'era anche Erika Bagatin, maratonina udinese Che si è allineata al via con le migliori atlete del mondo Un impegno severissimo per la 43enne atleta di Cordenons Che l'ha affrontato con coraggio a fronte di una carriera atletica Costantemente ai vertici delle classifiche italiane master Ex regbista nel Monte Reale, Rovigo e Benetton Treviso Sei scudetti e una convocazione in nazionale Ha intrapreso la strada del running a 27 anni Mettendosi in evidenza al maratone di New York e Verona Quest'ultima vinta in due ore, 50 e 32 Mentre nel cross ha primeggiato nell'ultima edizione del Memorial Giacomo Romano La più prestigiosa gara sui prati della regione Lavoro allenamenti nel senso più puro di un dilettantismo in via di estinzione Erika ha portato a termine il suo sogno in ventunesima posizione Con il tempo di 19 minuti e 27 La prima italiana al traguardo è stata Margherita Magnani Delle Fiamme Gialle Quinta E la 31esima edizione della corrida di Santo Stefano Che si è tenuta a gradisca di sonzo E la gara valida per l'assegnazione del quinto Memorial Giuliano Ballabeng E si è disputata in una grigia mattinata con la partecipazione di 120 runner D'altronde questo appuntamento che si rinnova da oltre sei lustri Sotto la spinta di Cesare Ballabeng Già maratoneta di buon livello e ideatore tra l'altro della mezza di Palmanova Oggi competizione dai grandi numeri Si è guadagnata l'apprezzamento dei podisti Che da questo impegno a cavallo delle festività Trovano due valide motivazioni per esserci Riprendersi dagli eccessi natalizi E approfittare dell'occasione per il tradizionale scambio degli auguri E così senza troppe pretese e con risorse modeste L'organizzatore come regalo di Natale postumo Ha avuto in dono una griglia di partenza degna di una gara d'elite Misteri del podista che non sempre cerca la gara più nominata Ma segue l'istinto e va dove lo porta il cuore Si parte al galoppo e il gruppo si sfilaccia subito dopo l'uscita dal centro cittadino L'austriaco di origine etiope Lema Work che tema, campione nazionale di mezza maratona Saluta la compagnia e si defila sul piede di tre minuti al chilometro Ritmo che manterrà costante per tutti i nove chilometri e due del percorso Insomma un austriaco preciso come un orologio svizzero Agli altri non è rimasto che riprogrammarsi per pensare a come occupare le posizioni nobili della classifica generale Si è formato così un drappello di aspiranti Con Tobia Beltrame, Trieste Atletica Ale Foma Rarse, Atletica Buia Steve Bibalo e Giuseppe Puntel Sportiamo Francesco Nadalutti, Polisportiva Tricesimo Igor Patatti, Aldomoro Palluzza Che per un po' sono andati d'amore d'accordo alternandosi al comando Sotto la spinta di Beltrame il sestetto si è presto ridotto a terzetto Assieme a lui sono rimasti Ararse e Bibalo Che però si è arreso per il riaccutizzarsi di un risentimento muscolare Intanto con una performance portata a termine in perfetta solitudine nel tempo di 27 e 29 L'Emma Work che tema 32enne con personali di 1 ora 3,50 sulla mezza e 2 ore 14 e 23 in maratona Ha stabilito il nuovo record del percorso che era del marocchino Oelle Cascini e resisteva dal 2009 A completare il podio Lotti Motobia Beltrame, secondo in 29 e 23 e Ale Foma Rarse, terzo in 30 e 14 Beltrame, 23enne con personali di 32,12 sui 10 e 15 e 22 sui 5 mila metri Vive e lavora in Spagna ed era rientrato in regione per le festività natalizie Hanno quindi terminato la prova dal quarto all'ottavo posto Francesco Nadalutti, Giulio Quattrone, Trieste Atletica, Giuseppe Puntel, Igor Patatti e Alessandro Maraspin Sportiamo in 31 minuti e 09 Tra le donne è stata Erika Franzolini, Bruniera Friuli, Intagli, la più lesta delle partecipanti E si è affermata in 35 e 45 Atleta ad alto livello nel settore assoluto Con un fantastico personale di 2 minuti, 4 secondi e 84 sugli 800 metri La 31enne Franzolini continua a frequentare il mondo dell'atletica Malgrado il persistere di un male oscuro che le impedisce di esprimersi come un tempo A debita distanza piazza d'onore in 38 e 35 per Samantha Mattiussi Terza posizione per Bogdana Gregorcic della Generali Trieste Quindi ai piedi del podio Federica Babic, Michela Biacca e Denise Sturm La classifica per fasce d'età M40, primo Piccinini, secondo Presel e terzo Lucon M45, primo Marino, secondo Editurco e terzo Pellizzari M50, prima Luca Guatteri, secondo Barracani e terzo Martineo M55, primo Liberale, secondo Fulvio Babic e terzo Rischek M60, primo Cavs, secondo Castellarin e terzo Perissi Tra gli spettatori anche un campione isontino di alcuni anni fa Fabio Olivo che ha assistito all'arrivo dei runner con i quali ha condiviso il percorso agonistico ad alti livelli Numerosi anche i volti più o meno noti del mondo atletico presenti Giorgio Borges, artista che ha lasciato l'isontino per seguire la sua ispirazione musicale Realizzandosi in Inghilterra Giorgio tra l'altro è figlio di un mitico giudice di gara goriziano Mario Borges E ancora Emiliano Feleppa, presidente dei marciatori Gorizia Romano Boatto della trattoria Friuli Il comandante del secondo stormo di rivolto Colonnello Editurco Il folto gruppo di mezzofondisti dello Sportiamo E molti altri Le veloci premiazioni finali hanno annunciato il rompe delle righe Il supporto della sceltazione nazionale carabinieri in congedo di Farra di Sonzo Che hanno presidiato gli incroci e garantito la sicurezza sul percorso È stato fondamentale Come la silenziosa presenza di Silvano Godeassi Instancabile collaboratore a fianco dell'organizzatore Tutto secondo copione dunque Allora arrivederci alla prossima edizione della Corrida di Santo Stefano La numero 32 della serie E domenica, ultimo giorno dell'anno I podisti più irriducibili Ci sono ritrovati in poco meno di un centinaio a Farra di Sonzo Percorrere la Silvester Lauf Corsa In circuito paesano Su quattro tornate per 1850 metri Ciascuna per un totale di 7 chilometri e 4 Tracciato perfettamente presidiato Dall'associazione nazionale carabinieri in congedo di Farra di Sonzo Con l'ausilio sanitario dell'associazione di volontari di Lucinico Mattinata soleggiata con temperatura attorno ai 5 gradi, centigradi E partenza veloce ufficializzata dal lancio di un razzo Perfettamente in clima con l'atmosfera di festa Della giornata di chiusura dell'anno 2017 Ha vinto portandosi subito al comando E conducendo dal primo all'ultimo metro Luca Guatteri della Polisportiva Tricesimo Che ha terminato la prova in 25 minuti e 13 Alle sue spalle si è scatenata la lotta per la conquista della Piazza d'Onore Che è stato appannaggio di Lorenzo Masi Dello Ialmico Corse Che per tre quarti di gara è rimasto nelle posizioni di rincalzo Ma che con un finale imperiale è giunto secondo in 25 e 20 Mentre Massimiliano Visca dell'Atletica Dolce Nord-Est Con una gara regolare è giunto buon terzo in 25 e 27 Un risultato soddisfacente per il mezzofondista di Stefano Chiabai A rientro dopo un paio di mesi di stop per infortunio Al quarto posto Fragasso in 25 e 45 E al quinto De Biasio in 25 e 59 Mentre sesto si è classificato Alessandro Cocciani Della Fincantieri-Varcila in 26 e 14 Sentiamo le impressioni del vincitore Eccoci, è stata una bella gara Un percorso scorrevole da ripetere più volte Diciamo che sia un partito un po' troppo forte Probabilmente ho fatto i primi due o tre giri a buon ritmo Poi nell'ultimo ho dovuto calare un po' il ritmo E quasi quasi mi riprendevano Comunque tutto sommato è una bella esperienza Come chiusura di anno diciamo che è andata bene Per il prossimo anno il programma più o meno sarà sempre quello Per cui un po' di pista indoor In gennaio cross Che è la mia passione E poi d'estate faremo come quest'anno Gare in pista, campionati italiani di categoria E così Gare su strada poco Perché diciamo che sono un po' troppo lunghe Per le mie caratteristiche Speriamo vada bene come quest'anno Che è stata una bella stagione E sperando appunto di non avere problemi Infortuni vari Continuerà a correre finché si può E tra le donne duello fino all'ultimo respiro Tra il terzetto di atlete Che ha portato un finale incandescente Dove ad avere la meglio è stata La 29enne Federica Babic Del gruppo marciatori teenager In 32 e 10 Che l'ha spuntata per 9 secondi Su Valentina Pintelli Seconda Mentre terza staccata di 14 secondi Si è classificata Michela Biacca La parola alla vincitrice Allora oggi siamo qua a Farra È stata una bellissima gara Un bel tracciato Un bel percorso Una bella giornata di sole Per me è la prima volta che arrivo Proprio prima Prima assoluta Quindi insomma Un'ottima emozione È stato molto bello Correre sempre con a fianco La seconda e la terza Quindi un bello stimolo A dare il massimo Soprattutto nell'ultimo giro Che insomma è quello dove Sono riuscita poi a ritagliare la vittoria È stato un anno molto bello Devo dire la verità Perché mi ha portato ad essere Prima in Coppa Gorizia Prima in Coppa Trieste Quindi una serie di bellissime gare Spero di poterle rifare tutte Nel 2018 Che sia anche questo Un anno insomma di soddisfazioni E velocemente si è tenuta La cerimonia di premiazioni Per dare via libera ai runner Che sono così rientrati Nelle loro case Per seguire in tv La gara internazionale Di corsa su strada Boclassic di Bolzano Una competizione tutta da gustare Di cui abbiamo parlato A inizio puntata E quindi prepararsi Per il veglione di fine anno Oltre ai primi classificati Che hanno ricevuto I riconoscimenti I migliori delle categorie M40 Al primo posto con la Mara Nella M45 Successo di Alessandro Levan Nella M50 Vittoria di Baracani Nella M55 La spuntata Milan Mentre nella M60 Il migliore è stato Sereno Molinaro Un riconoscimento È stato assegnato Anche a Luca Brumat Che al di là Del modesto piazzamento finale È stato il primo Ma probabilmente Anche l'unico Concorrente di Faradisonzo In questo caso L'encomio E non solo È meritato Ma assolutamente dovuto Tempo di premiazioni Alla Libertas Grions Remanzacco Che si è raccolta Per ricordare Un anno di successi sportivi E organizzativi Alla presenza Dei sindaci Di Povoletto Andrea Romito E di Remanzacco A Daniela Brits Sono stati consegnati I riconoscimenti A tutti i ragazzi Che hanno svolto L'attività nel corso dell'anno Con particolare menzione Per Simone Koren Veronica Decker Alice Beltramini E Matteo Serafini I quali si sono Particolarmente distinti Per i brillanti risultati ottenuti La Libertas Grions Remanzacco Può contare Su una quarantina Di ragazzi Dai 6 ai 14 anni Che svolgono L'attività Sotto la guida Dei tecnici Sergio Ierep Ilenia Geronazzo Tommaso Pascolini E Sandra Candelotto L'occasione Servita anche Per presentare Il nuovo direttivo Alla presidenza È stato eletto Cristian Cantarutti Cantarutti È stato un valido atleta Del settore giovanile Poi ha ricoperto Le cariche Di direttore sportivo E segretario Confermato alla vicepresidenza Sergio Mitri Segretario sarà Federico Patriarca E direttore sportivo Lucio De Ecker Ecco l'immagine Del deo presidente Cantarutti Con il socio fondatore E presidente onorario Della Libertas Angelo Compagnon E saranno presentati Venerdì 5 gennaio Alla base aerea Di Rivolto I poster dedicati Agli atleti Che alle recenti Olimpiadi Hanno rappresentato Lo sport italiano E friulano Nell'atletica leggera L'iniziativa promossa Dal presidente Del comitato regionale Delle Econi Giorgio Brandoling E dal delegato Del coni udinese Alessandro Talotti È stata prontamente appoggiata Dal comandante Del secondo stormo Colonnello Edi Turco Che tra l'altro È un ottimo runner Che partecipa All'attività su strada Della regione L'evento è titolato Ali azzurre Volare tricolore Nello sport E nella vita Dalla terra al cielo Le eccellenze friulane Si incontrano A rivolto All'aeroporto Sarà possibile accedere A partire Dalle ore 10 Dall'ingresso principale E questa era L'ultima notizia Della odierna serata Grazie per il fedele Cortesi Ascolto Buon anno Buone corse E arrivederci Alla prossima puntata Dall'ingresso principale Dall'ingresso principale